La partita è stata una partita difficile, su un campo difficile, dove solo una squadra aveva vinto qui ad ottobre, quindi sapevamo le insidie che andavamo a incontrare contro una squadra che ha dei buoni giocatori. Era la terza partita, in più noi avevamo parecchie defezioni all'ultimo e quindi eravamo un po' incerottati. Però i ragazzi hanno stretto i denti e alla fine hanno voluto questa vittoria e l'hanno ottenuta. Nei primi minuti, nel primo quarto d'ora, nei primi 15-20 minuti, la mia squadra è stata un po' timida, un po' impaurita. Mi è sembrata così. Poi piano piano ho cominciato a sciogliersi, a lasciarsi andare e a prendere le misure agli avversari. Nel secondo tempo credo che sia stata tutta un'altra partita, dove la squadra ha lavorato molto bene, andando a cercare e a trovare anche delle soluzioni pericolose, dove si poteva, in più di una circostanza, fare gol. Come succede spesso nel calcio, quando tu non riesci a concretizzare quanto di buono hai prodotto, alla fine poi viene punito. Sull'unico tiro in porta, se non ricordo male, del crotone.